Anticipazioni che riprendono le puntate, che andranno in onda dal 5 al 10 agosto. L'episodio di lunedì inizia con Ozan, che entra furioso nella stanza di sua sorella, dove c'è anche Emir. Il ragazzo accusa Nian di aver incolpato ingiustamente Zeynep. Nian si sente sopraffatta e incapace di reagire. Emir consiglia a Ozan di lasciarla in pace e di prestare maggiore attenzione a sua moglie. Tuttavia, Ozan insiste nel difendere sua moglie da qualsiasi attacco, minacciando persino di allontanarsi per sempre dalla loro famiglia se la situazione non cambierà. Emir conduce Ozan. Nella sua stanza lì, Emir inizia a mettere in atto un piano per incastrarlo, suggerendo che, se Ozan desidera davvero stare con Zeynep, dovrà fuggire con lei. Ozan se ne va dicendo che non può scappare, perché è in libertà vigilata. Nel frattempo, Zeynep chiede a Kemal di mantenere segreta la situazione accaduta. Non vuole che la famiglia venga a conoscenza delle voci che circolano su di lei ed Emir. Ozan riappare a casa di Kemal e porta Zeynep all'esterno, rivelando di voler un test di paternità per silenziare tutte le voci. Zeynep spiega a Ozan che una richiesta del genere implica una mancanza di fiducia. Kemal sente la conversazione e dice a Ozan che non deve essere fatto alcun test di paternità. Afferma che, se Zeynep accetta una cosa simile, lui dovrà convivere con l'idea che Emir ha toccato sua sorella. Poi ordina a Zeynep di entrare in casa. Ozan se ne va, ma è molto frustato. Poco dopo, Kemal si dirige verso la scogliera e butta in mare la pistola che aveva preso da Zahir per vendicarsi di Emir. Sulla spiaggia compare anche Leila, una delle poche persone in cui Kemal conserva ancora una completa fiducia. Lui ora percepisce un cambiamento in Niyan. Questa riflessione porta Kemal a capire che è arrivato il momento di andare avanti con la sua vita e chiudere definitivamente il capitolo con Niyan. Il giorno successivo Emir contatta Tufan per chiedergli di tenere d'occhio Asu, sua sorella. Quando riattacca il telefono, arriva Galip, che chiede al figlio se ha trovato suo fratello. Emir nega di averlo trovato, ma Galip, intuendo che Emir sta nascondendo qualcosa, inizia a indagare. Sull'auto Tufan, informa Asu che Emir ha menzionato di avere una sorella. Asu è convinta che il fratello potrebbe ucciderla in qualsiasi momento. Tufan, però, la rassicura, spiegando che riuscirà a ottenere le registrazioni necessarie per fermare Emir. Per tranquillizzare Asu, prende un tablet e mostra la vista dalla telecamera installata all'interno della casa di Hakki. Spiega che sta solo aspettando il momento giusto per entrare nell'abitazione dell'uomo. Poco dopo, Niyan arriva a casa di sua zia. Si sfoga riguardo alla situazione in cui si è trovata, parlando dell'enorme distanza che si è creata tra lei e Kemal, oltre al fatto di essere stata costretta a mentire sulla gravidanza di Zeynep. Leila le dice che ciò che fa non può più essere considerato come proteggere qualcuno, e che ha tradito tutto ciò che aveva con Kemal, distruggendo i bei ricordi che lui aveva di lei. Leila le suggerisce di dire la verità a Kemal. Niyan, seguendo il consiglio di Leila, invia un messaggio a Kemal per chiedere un incontro. Poiché vuole rivelargli ciò che sa su Zeynep e Emir, nel frattempo quest'ultimo e Zeynep si incontrano. Zeynep racconta che Ozan le ha chiesto di fare un test di paternità, ma lei è preoccupata perché non è sicura che il bambino sia davvero suo. Emir le comunica che faciliterà il test di paternità per dimostrare che Ozan è il padre del bambino. Poco dopo, con il sostegno di Emir, Zeynep arriva alla villa e discute con Ozan riguardo alla loro relazione. Anche se finge di essere infastidita di sottoporsi a un test di gravidanza, racconta al marito di essere disposta a farlo per dimostrare a tutti di non averlo mai tradito. Nel frattempo, Ozan e Zeynep arrivano alla clinica per effettuare il test di paternità. Vengono informati che i risultati saranno disponibili tra sette giorni. Tuttavia, Zeynep inizia a mettere in atto il piano concordato con Emir e lascia la clinica con un'espressione frustrata. Ozan, preoccupato, la segue e le chiede cosa stia succedendo. Zeynep, prendendo la mano di Ozan, e propone di scappare all'estero per sfuggire a tutti i problemi che li circondano. È convinta che, quando arriveranno i risultati del test del DNA, saranno già lontani e che la sua famiglia finalmente comprenderà cosa hanno veramente perso. Ozan le ricorda che non possono lasciare il paese a causa della sua libertà vigilata. Zeynep suggerisce che Emir è in grado di aiutarli a trovare una via d'uscita. Ozan, quindi, decide di accettare la proposta e contatta Emir per chiedere il suo aiuto, ignaro del fatto che sta per commettere il più grande errore della sua vita. Kemal arriva nel boschetto e vede Nihan che lo aspetta accanto al pozzo. La osserva e ripensa ai momenti che hanno condiviso, ma alla fine decide di non avvicinarsi e opta per allontanarsi. Poi chiama Zahir, il quale lo informa che Asu si trova in una casa sconosciuta. Si tratta della casa di Hakki, che, tornando dal mercato, si sorprende nel trovare Asu all'interno. Le chiede come ci sia arrivata, ma Asu risponde che quella è l'ultima delle questioni da affrontare. Accusa suo zio di averla manipolata per anni al fine di portare avanti la sua vendetta. Kemal arriva nel luogo indicato da Zahir e bussa alla porta, mentre Tufan osserva stupito di come Kemal abbia trovato quel posto. Quando Hakki apre la porta, Kemal mostra subito preoccupazione per la salute dell'uomo malato. La sua prima domanda è su cosa stia facendo lì e da chi si stia nascondendo. In risposta, Hakki spiega che è stato costretto a fuggire per proteggere tutti dalla minaccia dei suoi nemici, ma non si sente sicuro nel condividere ulteriori dettagli. Successivamente, il vecchio prende per mano Kemal e Asu, unendo simbolicamente i loro destini. Confida a Soidere di prendersi cura di Asu e di non cercarlo più. Solo in questo modo avrà una chance di proteggerla dalle sue minacce. Asu si sente a disagio per le parole dello zio, ma Kemal, con uno sguardo rassicurante, le dice che non ha motivo di provare vergogna. Prima di congedarsi, Hakki abbraccia Kemal e bacia Asu, sussurrando nell'orecchio, le che questo gesto rappresenta un ultimo favore che gli sta facendo. Dall'altra parte della città, Emir si incontra con Zeynep e Ozan in un ristorante e si comporta come se non fosse a conoscenza delle intenzioni di Ozan. Quest'ultimo annuncia di aver effettuato un test del DNA. Aggiunge che i suoi genitori, e soprattutto Nian, capiranno le conseguenze delle loro azioni una volta che l'hanno perso, perché lui è determinato a fuggire con sua moglie. Emir si offre di aiutarli, ma a condizione che Ozan e Zeynep non parlino del suo coinvolgimento. I due accettano l'accordo. Emir quindi inizia a pianificare la fuga della coppia. Nel frattempo, Nihan esprime il suo amore per Kemal, nell'arte lavorando a un ritratto di lui. Yasemin arriva poco dopo e trova la sua amica in un cattivo stato d'animo. Cerca di confortarla, ma Nihan le confida che lei e Kemal non hanno più alcuna possibilità di tornare insieme. Quella sera, mentre Zeynep sistema le camice del fratello, scopre due buste contenenti i vestiti che Kemal aveva comprato per la figlia, che avrebbero dovuto avere insieme. Proprio in quel momento, Kemal entra e Zeynep non esita a dirgli che Nihan non sarà mai la madre dei tuoi figli, perché non divorzierà mai da suo marito. Poi continua dicendo che Kemal deve dimenticare la persona che ha calunniato sua sorella. «Basta, Zeynep! Ne ho avuto abbastanza!» esplode Kemal, prima di andarsene. Kemal desidera mettere fine al suo amore per Nihan, un sentimento che lo tormenta costantemente. Si dirige verso il pozzo, dove ha condiviso momenti indimenticabili con lei. Lì scava una bucca e inserisce l'anello di fidanzamento, come atto simbolico di rinuncia alla donna che ha amato profondamente. Asu riceve Emir nel suo appartamento, il quale le fa notare quanto assomiglia a loro padre. Poi spiega che un fratello può essere sia un grande alleato che il suo nemico. Asu ribatte che tra di loro non ci sarà mai amicizia, ma la loro conversazione viene interrotta bruscamente da un bussare alla porta. Emir si nasconde all'interno, mentre Asu scopre che il visitatore era in realtà Kemal. Kemal entra e rivela subito di avere qualcosa di molto importante da comunicargli. Credendo di essere solo con Asu, confida di aver amato profondamente Nihan e che, probabilmente, continuerà ad amarla per tutta la vita. Tuttavia, è lì per chiudere definitivamente quel capitolo della sua vita. Successivamente si rivolge ad Asu, riconoscendo i sentimenti che ha per lei, e le propone di sposarlo. Emir, nascosto dietro una porta, ascolta attentamente e sorride con soddisfazione. Asu, colta di sorpresa, non esita un attimo e accetta con entusiasmo, correndo addirittura a baciarlo brevemente sulle labbra, anche se è evidente che Kemal non condivide lo stesso entusiasmo per la situazione. Poco dopo, Soidere esce dall'appartamento di Asu, e lei è al settimo cielo, sorridente. Tuttavia, il suo sorriso svanisce quando incrocia di nuovo lo sguardo di Emir, che le dice di aver apprezzato ciò che ha sentito e che si augura che non si tratti di un semplice spettacolo teatrale messo in scena per lui. Nihan rientra a casa e, nel cortile, incrocia Ozan, che cerca di ignorarla e di passare accanto senza salutarla. Decisa a non tollerare un simile comportamento, Nihan lo afferra per il braccio e gli fa presente che non merita di essere trattata in quel modo. Dopo questo breve confronto, entra in casa e si dirige immediatamente nella sua stanza. Qui, si addormenta con la bambola che Kemal le aveva regalato, immersa nei ricordi. Nei suoi sogni, Kemal bussa alla sua porta, chiedendole una riconciliazione. In quel momento, Nihan si sente finalmente felice e serena. Tuttavia, il sogno svanisce bruscamente quando Emir la sveglia, informandola che ha delle notizie importanti da darle. Emir cattura immediatamente l'attenzione di Nihan quando menziona il nome di Kemal. Preoccupata, Nihan gli chiede con ansia cosa sia accaduto. Emir, con un'espressione seria, le rivela che Kemal ha preso la decisione di sposare Asu. Inizialmente, Nihan fatica a credere a ciò che ha appena udito. Le parole risuonano nella sua mente come un eco incredibile. Sentendo il respiro farsi sempre più pesante, decide di allontanarsi e scappa nel cortile della villa, cercando un momento di sollievo e spazio per elaborare la notizia devastante. Emir la osserva in lacrime e si rende conto che la sua sofferenza la sta consumando. Nihan si dirige verso la fontana abbandonata. Una volta lì, si inginocchia e scoppia in un pianto disperato, sentendosi privata per sempre del diritto alla felicità. Dopo un attimo, Emir decide di avvicinarsi a lei, nonostante la gelosia che lo attanaglia per la forza dei sentimenti che Nihan nutre ancora per Kemal. Con delicatezza, cerca di farle sentire la sua presenza, sperando di alleviare almeno in parte il suo dolore.